In vista delle elezioni amministrative della prossima primavera, il popolo della libertà in Abruzzo ha le sue brave gatte da pelare. Ci riferiamo soprattutto alla provincia dell'Aquila, dove la quadratura del cerchio è ancora ben lungi dall'esserci. Si parla sempre di del corvo da contrapporre alla pezzopane, ma c'è ancora molto da discutere nel centro-destra. Il PDL non ha invece alcun problema a Chieti, dove Umberto Di Primio ha di fatto avuto il placet di tutti, come era ampiamente previsto. Di Primio, che nella legislatura cucullo è stato presidente del Consiglio Comunale, sarà l'avversario del sindaco Francesco Ricci, nella lotta che si preannuncia serrata. In realtà saranno i vertici romani del PDL, o meglio sarebbe dire Berlusconi, a dare l'ok definitivo, ma per Di Primio non c'è alcun problema, come dicevamo. Una candidatura ampiamente scontata per un uomo politico impredicato già cinque anni fa di lottare per la poltrona di primo cittadino nel capologo teatino. I sondaggi al momento lo danno per favorito, ma la strada è ancora lunga e a Chieti i giochi sono tutti da completare, perché ancora non è chiara la sistemazione dei vari partiti e delle liste civiche, vedi soprattutto quelle di Di Paolo. Ricci, nel frattempo, è ottimista e la classifica dei sindaci del Sole 24 Ore, che lo dava solo al centotresimo posto in Italia, come popolarità, non lo preoccupa. Per il primo cittadino teatino è vero che c'è stato un calo rispetto a quando è stato eletto, ma il dato fa riferimento al ballottaggio. Se invece si fa il raffronto con la popolarità riscontrata lo scorso anno, Ricci è passato dal 46 al 48%. Insomma, siamo solo agli inizi della guerra delle cifre.